Ma allora perché si forma la brina nell'evaporatore? Beh, il concetto è molto semplice. Se hai il gas refrigerante molto freddo all'interno dell'evaporatore, appena dell'aria umida passa attraverso l'evaporatore, si posa sulle alette di questo evaporatore. Quindi aria con umidità, si forma una sorta di una pellicola di ghiaccio che viene chiamata brina e questa ne impedisce poi lo scambio perché se questo ghiaccio continua a ingrossarsi, si forma uno spessore che isola la batteria rispetto all'aria, quindi si forma come un tappo. Non riuscirò più a recuperare energia dall'aria e sarò costretto quindi a aumentare il consumo elettrico della pompa di calore però non avendo il comfort in casa. Allora cosa succede? A quel punto la pompa di calore si ferma e sbrina, cioè fa un ciclo di sbrinamento, riportando a una temperatura più alta l'evaporatore per evitare e per sghiacciare tutto quello che si è depositato in questa batteria. Allora adesso andiamo a vedere quali sono i metodi per limitare gli sbrinamenti. Prima però andiamo a vedere quali potrebbero essere le cause di sbrinamenti non adeguati, cioè perché una pompa di calore dovrebbe fare troppi cicli di sbrinamento durante il giorno oppure perché rimane troppo tempo in sbrinamento. Tra le varie cause potrebbero esserci un basso livello di refrigerante, cioè ci sono state delle perdite di gas e refrigerante, quindi ce n'è meno all'interno della pompa di calore e quindi non ci troviamo a lavorare in condizioni nominali, quindi la pompa di calore non è stata progettata per lavorare in quelle condizioni. Cosa ne consegue? Che anche l'evaporatore, quindi la batteria esterna, si troverà a lavorare in temperature e pressioni diverse e di conseguenza anche gli sbrinamenti sono anomali. Prima di continuare con il tuo video mi dispiace interromperti, lo so che è sempre una rottura di scatole, però Sigiliosicuro.it merita davvero, guardalo. È una rete di installatori che ti aiuta a vivere senza gas, a togliere il contattore, con centinaia e centinaia di casi già realizzati di famiglie che ora vivono senza gas. È una figata pazzesca. E poi c'è il canale YouTube Cerca Samuele Trento, iscriviti e clicca sulla campana a fianco. Ci sono centinaia e centinaia di video che ti aiuteranno a fare la tua scelta consapevole. E poi c'è un canale Telegram di cui trovi il link qui sotto nella descrizione del video. Un sacco di novità, strategie e approfondimenti su come trasformare la tua casa in 100% elettrica sfruttando il tuo impianto anche se hai radiatori. Una figata pazzesca. Un'altra causa potrebbe essere posizionamento errato della macchina esterna perché se la mettiamo troppo vicino al muro non ci passa l'aria e quindi non passando l'aria attraverso l'evaporatore non abbiamo il giusto scambio termico e quindi la macchina ghiaccia. Un'altra causa potrebbe essere la valvola di inversione bloccata. Allora, cos'è questa valvola? Quando la pompa di calore passa in modalità sbrinamento andiamo a riscaldare anziché l'acqua andiamo a riscaldare la batteria esterna cioè l'evaporatore cioè la macchina esterna. Questo ovviamente per sghiacciare. Tutto questo avviene tramite una valvola di inversione che se questa rimane bloccata ovviamente la pompa di calore rimane per molto tempo in modalità sbrinamento oppure proprio non ritorna più alle condizioni nominali. Un altro motivo potrebbe essere che la pompa di calore è sottodimensionata quindi si ritrova a lavorare per molte 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 ore al giorno alla massima potenza al massimo numero di giri e quindi la macchina quando ritorna e quando si trova ad essere sotto stress ovviamente la batteria esterna ghiaccia molto di più e quindi c'è la necessità di sbrinare molto di più. Un'altra causa possono essere i comandi di sbrinamento non funzionanti cioè potrebbe essere che il software all'interno della pompa di calore per diversi motivi magari per mancati aggiornamenti non funziona più correttamente oppure qualche problema hardware cioè un relais non funzionante oppure qualche componente elettronico della scheda che non funziona più. Un altro tema sempre legato all'aria sono le ventole infatti anche le ventole se non sono funzionanti oppure se sono leggermente danneggiate e non girano al numero di giri corretto quindi alla velocità corretta ecco ne impediscono il giusto scambio d'aria cioè la batteria se la ventola è ferma ghiaccia quasi immediatamente c'è la necessità come nel radiatore che tu hai sotto il cofano della tua macchina se non gira la ventola del radiatore immediatamente arriva ad alta temperatura stessa cosa in modo inverso nella pompa di calore se non gira la ventola si ghiaccia molto velocemente oppure la necessità di controllare che non ci sia qualche pluviale o comunque che non arrivi troppa acqua addosso all'unità esterna perché? perché se già abbiamo aria fredda e umida se ci butto anche dell'acqua perché magari un pluviale ci sbatte addosso o c'è qualche condizione particolare figuriamoci quest'acqua che va addosso a una batteria che si trova a meno 15 gradi quindi a 15 gradi sotto zero ovviamente si ghiaccia molto più velocemente bene ora che abbiamo visto quali possono essere le cause che portano a degli sbrinamenti non adeguati quali sono le attività che ti permettono di limitare il numero di sbrinamenti ed evitare che questa pompa di calore si ghiaccia e che consumi energia elettrica inutilmente? beh sicuramente tieni pulito il flusso dell'aria cioè tieni pulito l'evaporatore tieni pulita la batteria controlla che non ci siano rami foglie o qualsiasi altro ostacolo che può impedire il flusso dell'aria all'interno della pompa di calore garantire il flusso dell'aria all'interno della pompa di calore ti permette di recuperare l'energia dall'aria e non dall'energia elettrica e non dall'Enel quindi avere COP e quindi rendimenti molto più alti controlla poi che per sbaglio non ci siano delle grondaie o altri sistemi che portano acqua vicino alla pompa di calore o addosso alla pompa di calore perché se sul vassoio della cogli condensa inizia ad esserci molta acqua potrebbe essere che poi a contatto con la batteria ghiacciata si formi un blocco di ghiaccio quindi attenzione anche questa cosa ed infine come ultimo consiglio ecco programma un controllo di manutenzione ordinaria ogni anno per tenere controllato l'impianto la pompa di calore e tante altre cose che ti permettono di risparmiare in bolletta bene se ti è piaciuto questo video metti un like e iscriviti al canale youtube per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video e iscriviti al canale